Penso che stupendo è stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo l'incontro, come gli ultimi sopravvissuti, forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza, il realtà che mai esistirà, i migliori anni della nostra vita, 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 la nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Grazie